Nel nostro primo approfondimento parliamo di piccole imprese d'emergenza Covid con Gabriele Mastellarini. Siamo stati dimenticati, siamo tutti arrabbiati, andiamo avanti solo con le nostre forze, non per quello dello Stato, sicuramente. La nostra merce è andata nei secchi, nella pattumiera. Lo sfogo di Iole Caterini, fiorista teramana, è l'emblema della situazione di una delle tante piccole imprese penalizzate dall'emergenza Covid. Benché per i negozi di fiori sia possibile rimanere aperti, i cali di fatturato sono notevoli, circa l'80%, soprattutto a seguito degli annullamenti di eventi e cerimonie. E si prevedono chiusure per circa 5.000 esercizi, se non arriveranno i ristori del governo. Già i ristori, perché i fioristi sono una delle tante categorie escluse dai rimborsi che lo Stato erogherà a fondo perduto, circa 18 miliardi di euro. Purtroppo le persone non girano, entrano poco, non ci sono previsioni certe per il Natale, viviamo alla giornata, ma i nostri bidoni dell'immondizia sono pieni di scarto che comunque ci fanno fatturato. A bocca asciutta anche il settore dei matrimoni, fortemente penalizzato a causa del rinvio di 60.000 nozze e del contingentamento delle attuali cerimonie. Circa 50.000 le aziende del winding in Italia e 400.000 lavoratori interessati, con perdite di fatturato fino al 95%. Purtroppo facciamo parte di una filiera dimenticata, non abbiamo avuto nessun aiuto, quindi matrimoni non ce ne sono, cerimonia nemmeno, quindi ci auguriamo che qualcuno si ricordi di noi. Fuori gioco, è proprio il caso di dirlo, le agenzie e i punti di raccolta scommesse. Nessun ristoro, nemmeno alle imprese installatrici di distributori automatici. Molte categorie sono state ripescate in extremis, come i commercianti di scarpe, il settore delle fiere e degli congressi e gli agenti di commercio, che in larga parte saranno rimborsati, grazie a un appendice, all'ultimo dei quattro decreti ristori. E per gennaio se ne prepara un quinto da 3,8 miliardi destinato ai professionisti titolari di partita IVA, che hanno molto alzato la voce, capitanati dai dentisti.